voglio utilizzare questo video messaggio per forgere i nostri auguri di una serena pasqua 2020 da parte dell'intero personale scolastico dell'istituto comprensivo eugenio pertini abbiamo pensato a questo modo per raggiungere le vostre case per raggiungere i bambini per raggiungere voi proprio perché materialmente ci siamo allontanati ma su bene che in questo periodo tanto fitta e tanto intensa è stata la nostra comunicazione beh ci accingiamo a vivere una pasqua diversa alla quale non eravamo sicuramente preparati stiamo cercando di lottare contro la paura contro il dolore che sentiamo ogni giorno nell'ascoltare il numero delle vittime che ancora ci sono in italia nel mondo abbiamo scoperto un senso nuovo e profondo di solidarietà e questo ci ha uniti ci ha uniti molto al di là dei confini e allora proviamo per un attimo a cercare di valutare di scoprire di sperimentare il senso più profondo di questa pasqua forse mai come oggi abbiamo sentito questa festività in modo così intenso quanto siamo uniti quanto tempo stiamo destinando a stare vicino ai nostri cari beh facciamo germogliare dentro di noi la primavera del cuore questa grande attenzione verso l'altro questa testimonianza dell'amore profondo di gesù per noi che ha sacrificato la sua vita per renderci la nostra beh al di là di ogni credo al di là di ogni tipo di idea religiosa politica cerchiamo di sperimentare la parte più bella e cioè la possibilità di deditarci agli altri aspettiamo che l'esperienza di questo covid 19 sia semplicemente uno strumento per proiettarci in un futuro diverso in cui la dimensione egocentrica la dimensione personale la dimensione individuale possa essere superata questo è quello che vi auguro di sentire profondamente la gioia di donarci agli altri e allora siamo vicino ai nostri bambini siamo vicino alle nostre famiglie sperimentiamo questo modo di sentirci uniti nonostante siamo distanti è bellissimo perché questo è espressione d'amore buona pasqua a tutti buona pasqua 2020 distanti ma uniti 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 la Buona Pasqua 2020, distanti ma uniti, Pertini. Grazie.